Ah sei troppo alto! Youcastle è la seconda forza del campionato, bella vittoria contro il teatrico Scaglione, il Super Nelson! Ovviamente, piacerebbe vincere! Sì, vabbè oggi ho giocato particolarmente bene, hanno attaccato tutto il tempo, però abbiamo giocato bene, abbiamo vinto, 3 a 1! Partita caratterizzata da due espulsioni da parte loro, poi ne avete approfittato... Beh loro erano convinti di vincere, se guardate le interviste di prima, della giornata di prima, diciamo che ci battevano Quanto è finita la partita? 3 a 1 per voi! Abbiamo vinto! No, no, basta, basta quello scherzo! Voi dici che non dico un cazzo! Ho capito, e la prossima è un trecrisale? Allora, al prossimo turno voi avete, Rianchi è bravo, una sfida molto insidiosa, loro sono una bella squadretta! Siamo felici! Ce la giocheremo! Comunque, volevo dedico questa vittoria a una persona! A me! No, non è a lui, è una persona! Chi è? Eh no, il no non lo faccio perché guarda sempre le interviste e poi si emoziona! No scherzo, gli voglio tanto bene! È una ragazza di Agrigento! È una ragazza? Sì, sì, sentito! Ti tradisci? E gli voglio tanto bene, apposto! Lei mi segue sempre nella mia fan, quindi gliel'avevo promessa! Speriamo bene! Speriamo bene! Io lo dedico questa vittoria a una ragazza di Napoli che mi segue da una vita! Sì, grazie! È vero? Sì, sì! Comunque, migliori in campo indubbiamente tu Nelson! Ovviamente! Abbiamo visto a Tommaso che si è fatto male! Come sta adesso? Ha fatto un bruttissimo fallo! No, allora sta bene, cammina! Ah, è normale! No, no, però è solo un bruttissimo fallo! Però è forte! Il nostro capitano si riprende! Ovviamente! Ho capito! Vabbè ragazzi, con questo freddo vi invito a farvi una bella doccia calda! Sì, sì, una bella doccia calda! Va bene? Va bene! Alla prossima! Ciao ciao!